Giornata senza derby per le abruzzesi del Girone F. Il Meciclusi giocherà lo stadio Bianchelli di Senigallia tra la Vigor e il Chieti, prima contro seconda in classifica separate da un punto. La partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro sul rete 8. Neroverdi privi dell'infortunato Balic ne avrà almeno per tre settimane, mentre sarà convocato Don Sa che si è regolarmente allenato. La tifoseria è in fermento e seguirà in massa la squadra. 600 i biglietti disponibili sulla partita così il tecnico del Chieti Giovanni Gnoffo. Non è facile ma non è nemmeno proibitiva. Abbiamo tutte le carte in regola per poter andare a fare una grande partita. Sappiamo che ci scontriamo con una squadra che ha numeri importanti, è una squadra che è organizzata. Abbiamo visto sicuramente diverse situazioni e attenzionato in maniera particolare la loro capacità di palleggio. Però noi dobbiamo dal canto nostro cercare di mettere in campo le nostre migliori armi, andare là, fare una partita da umili operai e cercare di metterci nelle condizioni di fare oltre alla prestazione anche il risultato. Balic sempre infortunato però Don Sa recuperato pienamente. Balic probabilmente ne avrà ancora per qualche settimana. Per quanto riguarda Don Sa credo di averlo disponibile. Dimenticare la disfatta di San Benedetto del Tronto è la parola d'ordine all'Aquila. La squadra di Pagliari si è allenata duramente per tutta la settimana, tecnicamente ha tutte le carte in regola per rialzarsi e riprendere il cammino di vertice bruscamente interrotto. Al Gran Sasso d'Italia se la vedrà con la fermana reduce dal K.O. interno contro l'Isernia. Tra il rosso-blu mancherà Giorgio Mantini squalificato, sempre out Mario Giannini. Trasferta insidiosa di Sernia per il Teramo. Biancorossi comunque con il morale molto alto, reduci da tre risultati utili e domenica scorsa è arrivata anche la prima vittoria. Il Notaresco è a caccia del primo successo dopo tre pareggi. Non sarà facile perché l'avversario che arriverà a Savini è l'Atletico Ascoli, squadra in salute con sette punti in classifica. Infine l'Avezzano ancora a secco di punti. I Marsicani, guidati dal nuovo tecnico Sandro Pokesci, che ha il compito di rinvigorire la squadra, riceveranno allo stadio dei Marsi la Civitanovese che ha colto il primo punto domenica scorsa contro il Notaresco. Partita non impossibile da vincere.